Oggi la giornata mondiale contro l'AIDS, una malattia di cui non si parla più molto ma che invece continua a colpire. 3 milioni i bambini e gli adolescenti seropositivi nel mondo. Ogni giorno si contagiano 700 adolescenti. Sentiamo allora Elisa D'Alto. Pronto numero verde l'AIDS? Da 31 anni i ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità rispondono al telefono verde dedicato all'AIDS. Nella giornata mondiale contro questa patologia è un'occasione per fare prevenzione perché ancora molti sottovalutano i rischi. Chi sono le persone che vi chiamano? Tendenzialmente sono persone di sesso maschile, eterosessuali, con un'età compresa dai 20 ai 39 anni. Permane però una fetta notevole di richieste che riguardano la disinformazione e quindi per esempio se la zanzara può essere a rischio. In Italia lo scorso anno sono state diagnosticate quasi 3.500 infezioni da HIV e 690 casi di AIDS. Di questi 7 su 10 non sapevano di essere sieropositivi. La maggior incidenza riguarda i giovani tra i 25 e i 29 anni. Le nuove diagnosi derivano da rapporti non protetti. Importante l'uso del preservativo. Chi abbia corso dei rischi è fondamentale sottoporsi al test. Può essere acquistato in farmacia, però tendenzialmente è importante che le persone si reichino ai servizi territoriali dove il test viene fatto in anonimato e gratuitamente con tutte le garanzie del caso.